L'Unione Comuni Pestum Alto Cilento ha pubblicato un avviso per l'inserimento di tecnici nell'elenco di professionisti per la costituzione della commissione sismica presso l'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento. Pertanto invita tutti i tecnici in possesso dei titoli e dei requisiti previsti a presentare entro le ore 12 del giorno 2 novembre 2021 domanda indirizzata al servizio sismica dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento per l'inserimento nell'elenco di professionisti per la costituzione della commissione sismica presso l'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento esclusivamente mediante consegna a mano in busta sigillata al protocollo dell'Unione dei Comuni presso Agropoli Piazza della Repubblica. Servizio sismica. L'oggetto riportato sulla busta dovrà essere il seguente domanda di partecipazione per l'inserimento elenco professionisti commissione sismica Unione Comuni Pestum Alto Cilento. Ai fini della costituzione della commissione sismica verrà redatta una graduatoria di merito. La documentazione integrale e i requisiti per la missione sono disponibili sull'albo pretorio dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento è sul sito internet www.unionecomunialtocilento.sa.it